A tutti piace il primo giorno di scuola, vero? Un nuovo anno, una nuova classe, nuovi amici. E' un giorno pieno di speranze e novità. Un giorno speciale in cui la tristezza della realtà non rovina il divertimento. A me piace il primo giorno di scuola per un altro motivo. Vedete, io ho un potere. Quando guardo le persone posso percepire una specie di aura che le circonda, una silhouette colorata in base a quanto tempo rimanga la persona in questione da vivere. La maggior parte dei miei coetanei ha un'aura completamente verde, che significa che hanno ancora molto tempo davanti. Una porzione abbastanza significativa ne ha una di un brillante giallo arancione, che di solito significa che la persona con quest'aura morirà per via di un incidente automobilistico o qualche altra tragedia. Per chiarire ancora di più, diciamo un qualsiasi avvenimento non troppo vicino che prende la vita della persona prima della sua morte naturale. Le volte vedo della gente che è praticamente un semaforo rosso ambulante. Le persone con queste aure di solito vengono uccise oppure si suicidano. È così divertente vederli e sapere che non manca molto alla loro fine. Il primo giorno di scuola arrivo sempre presto in modo tale che possa vedere bene tutte le aure dei miei nuovi compagni. Il primo ragazzo che entrò ne aveva una di un colorito rosso acceso. Risi tra me e me. Che sfortuna, amico. Ma più le persone entravano, più rimanevo sorpreso. Avevano tutti un'aura del colore del primo ragazzo. Guardai la finestra e vidi che il mio riflesso ne aveva una di colore rosa. Ero così scioccato che non riuscivo a muovermi. Poi entrò il professore e chiuse la porta chiave. La sua aura era di un nauseante colore verde.